Grazie e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video spacchettamento Avon di Campagna 5. Questo è il pacco, l'ho già aperto. E andiamo a vedere subito. Partiamo dal cartaceo. Allora, è arrivata questa offerta che è valida dall'8 di giugno al 28 giugno. Quindi ci sono alcuni prodottini a ottimi prezzi. Poi, il supplemento di Campagna 6 con offerte che vanno fino all'80%. Un catalogo di Campagna 7 Tre cataloghi di Campagna 6 Come al solito, Avon per te dove ci sono tutte le offerte e tutte le novità di Campagna 7 e questo è Avon Outlet Queste sono offerte che si possono ordinare in Campagna 7 e poi, vabbè, la fattura. Dunque, partiamo subito. Una mia cliente ha ordinato questa crema per i piedi perché si trova bene non è la prima volta che me l'acquista è parecchie volte si trova bene per 1,95 euro e l'ha voluta ricomprare. Questa stessa cliente ha comprato anche questa borsa penso che sia borsa da palestra però è molto carina l'ha voluta acquistare ed è venuta a 16,95 euro non l'apro perché non sono cose mie. Questa stessa cliente poi mi ha ordinato questa lozione per il sole questa lozione corpo per il sole e con questa abbinata che è una crema a protezione 30 con questa offerta se prendevi un prodotto della linea mare dopo sole insomma queste cose qui c'era in offerta a 9,99 euro una borsa a frigo e quindi ha voluto approfittare dell'offerta molto molto carina con queste palme anche molto capiente perché comunque è molto capiente e quindi l'ha voluta acquistare poi un'altra mia cliente togliamo questo un'altra mia cliente ha ordinato due deodoranti scusate due deodoranti della Incandesense che erano in offerta a 1,95 euro quindi ha approfittato dell'offerta e poi ha comprato due smalti della linea Mark Gel vi faccio vedere la colorazione sono quelli olografici adesso vi faccio vedere questo è color vaniglia vaniglia e poi ha ordinato questo bellissimo blu vedete belli 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 proprio pagati 2,50 euro e per me avevo ordinato un bagno schiuma però non mi è arrivato perché erano finite e poi ho comprato la cipria della color trend pagata 4,95 è quella trasparenti non l'ho mai provata però l'ho voluta prendere vediamo un po' questo qua è il pack vediamo un po' come è insomma spugnetta vediamo 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 un po' se riesco a tirare via la carta e questa qua è la colorazione oddio proviamo non l'ho mai provata quindi c'è sempre una prima volta poi 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 un campioncino mi hanno inviato un campioncino proprio anche se non me lo inviavano forse era meglio e niente questi sono tutti i prodotti che mi hanno ordinato in campagna 5 mi raccomando se il video vi è piaciuto mettetevi un like commentate e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche che almeno non non perdete i video che caricherò più avanti un bacio e alla prossima ciao ciao